Le persone che hanno avuto il Covid si dovrebbero far vaccinare? Allora, dopo un'infezione acuta, sappiamo che il nostro sistema immunitario ci difende dal virus. Però questa difesa non dura in eterno. I studi ci dicono che dopo 3-6 mesi questa reazione si indebolisce, per cui potrebbe esserci una reinfezione. Proprio per questo è stato deciso di fare un'altra vaccinazione, solo una dose, a distanza di 3-6 mesi dall'infezione acuta.